uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi siamo arrivati alla settimana numero 4 di questa season 8 settimana che con le sfide direi non è assolutamente difficile ma oggi ragazzi voglio solo dirvi di una sfida che potrebbe trarvi in inganno che è quella di utilizzare un palleggio in diverse partite non è molto chiaro in realtà cosa vogliano intendere ma vi posso garantire che è molto più semplice di quanto pensate e mentre andiamo a prendere il palleggio vi do una dritta per la sfida del cannone vi conviene ragazzi costruire una mini fortezza intorno a voi che potrebbe essere un 4 per un tre per tre con sopra il tetto con dentro un cannone e spararvi contro la struttura in modo da prendere i punti che vi servono un palleggio ragazzi non è nient'altro che una girosfera quindi molto molto easy ne prendete 5 in 5 partite diverse e avrete fatto la sfida per le altre non c'è davvero nulla da dire vi ricordo che ho caricato anche il video dello standardo segreto della posizione vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 17 in live ciao 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 ciao